Siamo davanti a un prodotto che è unico nel suo genere, il primo è un debutto non direi non solo nazionale ma anche internazionale, stiamo parlando di un'applicazione particolarissima per i telefonini che dà modo di avere direttamente la georeferenziazione e le tracce GPS, termine complesso per dire che qualsiasi cittadino in base con il suo telefonino riesce a visitare e fare dei circuiti, dei percorsi in bicicletta, a cavallo o a piedi direttamente in maniera immediata sul territorio del Veneto, sono oltre 2.000 km di percorsi, non serve il segnale GPS perché nel momento in cui si scarica la traccia sul telefonino si va in automatico senza tabellazioni, indicazioni, mappe o vantaggi. Questo significa proporre il Veneto del territorio, il Veneto dell'enogastronomia e non è un caso che il Veneto abbia 350 prodotti tipici, 53 vini a denominazione e sia la prima regione d'Italia per questo punto.